Come preferisci questi cibi, caldi o freddi? La pizza assolutamente calda, chi è che mangia la pizza fredda? Tè caldo d'inverno o freddo d'estate? Giambelle solitamente le mangio fredde anche se credo che calde siano molto buone. Non bevo caffè ma penso che caldo sia più buono di quello freddo. Formaggio mi piace sia freddo che caldo, soprattutto quello filante. Non ho mai mangiato la zuppa fredda, quindi calda. Fammi sapere nei commenti la tua opinione.